La vostra attenzione a quelle che sono le immagini, i personaggi che vi abbiamo proposto e soprattutto a questa bella iniziativa della CNA qui di Provinciale di Latina che ha aperto ad Aprilia questo ufficio a favore appunto di tutti quegli artigiani, di tutti quei piccoli imprenditori, di tutti quegli imprenditori che volessero essere aiutati a mostrare sempre al massimo la loro capacità tecnica e operativa. Ancora una volta da parte di Salvatore Ronoccio, un cordiale saluto e arrivederci alla prossima puntata. Salvatore Ronoccio